Buonasera a tutti ragazzi, siamo a Barletta, è precisamente un anno che vengo qui con la banda di Barletta alla festa del Santissimo Salvatore, forza, inquadriamo prima la luminaria della De Fazio naturalmente, vedete? Questi triangoli qua, insomma questa è la luminaria, una semplice di archetto, adesso entriamo in chiesa e vediamo. E questo è il Santissimo Salvatore, piccoli palio, vedete? E insomma tutto questo è le proprie, le oggetti di oggi. E oltre a una buona idea è dare di tanto in tanto un'occhiata anche all'illuminare, per esempio vi faccio vedere queste della De Fazio, vedete? Questa, questa, vedete che bella, con cerchietti sopra e vi faccio vedere anche questa, non so se si vede bene, queste altre, vedi che si congiungono, e queste. Insomma, sembrano un po' come la patronale, però in maniera più piccola, come potete vedere. Ci vediamo fra poco, durante la processione, non c'è, non è che qua sarà qualcosa di grande il suo video, eh, ovvero per un momento, che lo giriamo, il Santissimo Salvatore. Bambini, salutate con i coriandoli, fate i film, ti raccomando. Allora, siamo arrivati a un punto centrale della processione, per una benedizione. hanno prima sparato i coriandoli, i bambini, li ho fatti pure salutare. Ci vedremo dopo, magari, verso il rientro. Ecco, un punto almeno dove piuttano, ecco, i coriandoli, i petali, non so che dire. Beh, ci vediamo. Siamo giunti al rientro del Santissimo Salvatore. Salvatore, eccolo qui, con le campane a festa, fermo sulle scale della chiesa. Beh, se tra poco faranno batterie, madonna, ho fattoci cantare. Sì, guarda. Fra poco ci vedremo, a forse, qualche giochi pilotecnico. Ci vedremo. Iniziamo! Un spettaccio pilotecnico, come i fuochi, partiamo! Il rientro del Santissimo Salvatore. Ho le campane a festa, addirittura, secondo me. Allora! Uuuuuh No, con le campane veramente affezza No, con le campane Un momento della vita pirofata Vai Sì 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 Guarda, scusami Vai Vai, parto Vai, 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 parto Continuate a sparare Grazie a tutti. Grazie a tutti.